Più noto come Ivo Avido, il suo personaggio più conosciuto, è celebre per la sua partecipazione ai programmi televisivi Mai Dire Lunedì e Mai Dire Martedì, ai quali ha partecipato dopo aver fondato a Milano la Shorts Cut Productions, insieme a Marcello Macchia. Sempre con la Shorts Cut Productions produce e partecipa come attore in vari format per la web tv di Fox Italia, Flop TV, TV, Drammi Medicali 1 e 3, La Villa di Lato, Leggerezze, Mariottide, Piccol, e Tatami per Rai 3 con la Shorts Cut Productions realizzano oltre a format televisivi, spot tv e videoclip musicali. Tra i quali il videoparco Sempione per gli Elio e le storie tese. Nel gennaio 2011 entra a far parte del programma radiofonico Lo Zoo di 105 insieme a Marcello Macchia e Luigi Luciano. Nel 2013 produce con la sua Shorts Cut Productions Mario in onda su MTV. Inoltre nella serie partecipa come attore impersonando la guardia giurata degli studi. Nel 2014 Marco Belardi gli affida la produzione esecutiva del film italiano medio che incassa oltre 4 milioni di euro. Nel 2015 è produttore esecutivo del film Quel Bravo Ragazzo per la regia di Enrico Lando. Nel 2016, sempre per Lotus Production, firma come produttore insieme a Marco Belardi la sitcom Mariottide.